e finiamo il giro come lo abbiamo iniziato quindi abbiamo la maglia bassa sull'onda una catenella e andiamo a fare le due maglie alte giriamo il nostro lavoro facciamo le nostre due maglie alte 2 catenelle e andiamo nella maglia bassa 2 catenelle maglia bassa 2 catenelle andiamo nella maglia bassa cioè non maglia bassa e diamo nella maglia bassa con una maglia alta 2 catenelle andiamo nella maglia bassa fare la maglia alta e continuiamo così finiamo il giro e concludiamo con le nostre due maglie alte ok vi accompagnato anche per questi punti che facendoli in questa maniera potevano magari darvi qualche dubbio adesso non serve accompagnarvi oltre continuate con lo schema incanto d'onda e da adesso in poi però se volete se volete potete diminuire per stringere la vostra maglia la manica ok qui siamo a questo punto ecco io ho proseguito così però se volete stringerla leggermente in questo momento cioè quando abbiamo questi archi possiamo vedete qui bisogna fare le maglie basse come già vi ho detto più o meno all'inizio del del lavoro e quando abbiamo le due maglie qui dovremo fare una maglia bassa 2 maglie basse e una maglia bassa quindi se volete fare la manica lunga e iniziare ora a stringere magari decidete voi ogni quante parti fare le diminuizioni ok quindi non so magari fate uno uno due tre quattro archetti normalmente quindi due maglie basse e una sulla maglia alta 2 maglie basse e una sulla maglia alta ma quando arrivate al quinto ne fate una soltanto maglia bassa anziché due qui ok oppure ne fa per stringere un po di più ogni tre archetti quindi nel quarto mi fate una maglia bassa o nel terzo una maglia bassa ok basta semplicemente diminuire la maglia bassa anziché due ne fate una ogni quanto voi volete e la manica si restringe da sola ok quindi fate la manica lunga e larga quanto volete e ci ritroviamo quando io ho raggiunto la mia lunghezza e vi faccio vedere come procedere ragazze io sono arrivata alla lunghezza della manica desiderata quindi io più o meno ho fatto da dove abbiamo lasciato ok in totale sono 45 centimetri e come manica ho fatto dal diciamo dal dallo scalfo c'è dall'ascella ok proprio qui sotto alla punta sono 28 centimetri tenete conto che ognuna di noi sceglierà poi la misura per la sua manica ok quindi mi fermo con la manica io ho deciso che questa lunghezza va bene perché volevo fare un tre quarti quindi questa lunghezza va bene e mi fermo e la lascio ferma così quindi la blocco blocco la mia manica io lascio anche questo filo e a filo nuovo vado adesso a lavorare nel corpo ok devo allargare e allungare il mio corpo prima di chiudere la manica perché la manica avrà un bordino ora ve lo mostro ecco la manica avrà un bordino che noi dopo faremo insieme questo bordino ve lo faccio vedere già inserito qui deve salire fin sopra la spalla ok quindi il bordino poi avrà tutta questa parte di cucitura che si farà con l'uncinetto deve salire fin sopra la spalla quindi io cosa devo fare devo fare in modo che la larghezza sia sufficiente per coprire la metà del mio corpo ma dovete calcolare che io il retro lo chiuderò con praticamente io finirò la metà del mio cardigan da una parte e lo cucirò con questo bordo e l'altra metà con quest'altro e qui abbiamo solo di questo bordo abbiamo sei centimetri più e qui dovete calcolarlo è perché sei centimetri di bordo più la lavorazione per cucirla insieme che sono circa due centimetri quindi 4 centimetri ok quindi abbiamo detto 4 centimetri per lavorarla più 5 sono 9 centimetri che abbiamo in più nel retro ok sono 9 centimetri 9 centimetri di lavorazione ok tra questo più la lavorazione quindi vi dovete fermare prima dei 9 centimetri del vostro anzi 9 centimetri in totale quindi 4 centimetri e mezzo per la metà ok quindi io mi sono fermata 4 centimetri e mezzo prima della mia metà del corpo ok fatto questo ci ritroviamo per fare poi tutte le bordure ma la cosa importante che ci tengo a farvi capire è questa la manica al momento la sospendete fermatevi dobbiamo ora andare avanti con il diciamo il diciamo la parte qui della metà davanti il sotto e la metà dietro lavorata fino al punto di arrivare alla vostra metà del corpo meno i centimetri che vi ho detto prima e si lavorerà in così praticamente questa parte ovviamente la parte sopra non la lavorate verrà cucita dopo voi mi lavorate in questo modo seguitemi e mi raccomando questa è la metà del mio corpo parto io a filo nuovo partirò da qui ok quindi come ho fatto dall'altra parte qui metterò la mia prima maglia alta e poi proseguo su tutto il lato faccio il mio angolo come sempre faccio e seguendo ovviamente lo lo schema incanto d'onda poi faccio la mia parte sotto torno nella parte dietro ok mi fermo qui ritorno indietro quindi mi raccomando non mi chiudete il sopra ok sopra la spalla non me lo chiudete dobbiamo chiuderlo insieme come ho fatto qui vedete lo chiuderemo insieme così ok quindi se perché se voglio lavorate così non è il progetto che io sto sto facendovi ok non è quello il progetto quindi voi dovete semplicemente lavorare su 123 lati senza chiudermi la spalla non chiudetemi la spalla ok quindi manica ferma e la mettete da parte prendete adesso in considerazione solamente lato davanti lato sotto rispettando gli angoli ovviamente e lato dietro poi tornate indietro qui non lo chiudete aspettate che forse così ecco non lo chiudete tornate indietro lato dietro lato sotto lato davanti non lo chiudete tornate indietro lato davanti lato sotto e lato dietro la misura quanto desiderate voi vi faccio vedere io quanto sono andata avanti allora 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 sono andata avanti sì scusate perché effettivamente è difficile non vedere poi dove ho fatto praticamente da questo bordino qui ho fatto due nuvole quindi la prima fila di nuvole la seconda l'arco poi le maglie basse e sopra le maglie basse ho fatto una maglia alta una catenella una maglia alta e mi sono fermata quindi sono arrivata qui e poi ho proseguito solamente sotto ok ma per ora iniziamo a fare solamente questa parte cioè la parte che ci serve per allargare il sotto e il lato ovviamente poi a me non bastava solamente perché io sono arrivata alla dimensione che mi serve per la metà del mio corpo però non mi bastava la lunghezza ok però intanto noi facciamo solamente questo lavoro se no vi confondo troppo partite a filo nuovo da questa parte quindi 1 il lato sotto il lato dietro e poi tornate indietro il lato dietro lato sotto e lato avanti ok allarghiamoci e nel frattempo ovviamente ci allarghiamoci nel frattempo ci allunghiamo bene facciamo questo e ci ritroviamo qui io praticamente sono arrivata alla mia larghezza del busto quella che appunto avevo deciso di fare e vi ho appunto detto come calcolarla poco prima tenendo conto che abbiamo una fascia da aggiungere nella parte retro ok comunque ve l'ho già detto quindi non sto a ripeterlo ora abbiamo la manica l'abbiamo già fatta abbiamo lo diciamo la larghezza del nostro metà busto ma non abbiamo ancora la lunghezza prima di dover unire le parti ok quindi prendiamo il filo a nuovo guardate sto lavorando adesso lavorerò la parte sotto ok prendiamo il filo a nuovo ci agganciamo a metà dell'archetto della punta blocco il mio filo rientro dentro e faccio le mie 3 catenelle adesso dovete seguire semplicemente lo schema incanto d'onda quindi io devo fare tutte maglie alte e quindi procederò facendo tutte maglie alte sto allungando il mio la mia metà del cardigan ok e devo allungarlo prima di unire le parti perché se le unisco poi non posso più mettere la decorazione la decorazione centrale ok quindi ora così si parte quindi partite dalla metà del vostro angolo con una maglia alta e poi procedete come abbiamo sempre fatto con lo schema incanto donna quando arrivi arrivate nell'angolo della parte opposta quindi lavorate solo sul lato sotto ok solo su questo lato guardate partiamo da questa parte lavoriamo tutto il lato ci fermiamo in quest'angolo e l'ultima maglia che noi faremo e sulla metà di questo angolo ok e poi ripartite tornate ovviamente indietro e continuate con lo schema incanto d'onda va bene andate giù quindi fate la lunghezza che desiderate dipende da quanto la volete lunga quando avete la lunghezza che vi va bene a quel punto dovete fare lo stesso identico lavoro che avete fatto per questa metà chiamiamola metà sinistra per la metà destra e ci ritroviamo poi per l'unione delle parti quindi la parte centrale che unirà le due metà ovviamente dobbiamo unire anche le maniche nel senso cucirle proprio qui con il bordino che abbiamo già che dovremo poi preparare e completeremo poi con la rifinitura davanti ma momentaneamente dobbiamo fare un passo alla volta in questo caso adesso quello che ci interessa è allungare il nostro cardigan incanto d'onda forza ragazze che verrà uno spettacolo a dopo praticamente io sono arrivata alla lunghezza che io desidero per il mio cardiga ok quindi dipende poi da dalla lunghezza che volete realizzare voi per il vostro cardiga io praticamente dalla scella alla fine del del mio cardiga o circa 28 cm ok dall'inizio al termine poi ci sarà un pelino di bordura e quindi sicuramente arriverò a 30 centimetri comunque per il momento mi sono fermata a 28 centimetri e come vedete ho fatto a parte la parte iniziale che questa 1 2 e 3 tre sequenze non mi veniva o non mi veniva non mi veniva tre sequenze incanto d'onda ok a parte questa ho finito con praticamente collaborare la maglia doppi la maglia alta a rilievo bene adesso pensiamo alle maniche quindi per il momento lasciamo stare la nostra lunghezza ma dobbiamo chiudere le maniche e per chiuderle ho pensato di fare in questo modo dobbiamo fare un bordino con di onde un bordino di onde come questo e ve lo mostro subito ovviamente a filo nuovo con lo stesso uncinetto che abbiamo usato finora io uso il 3 e mezzo andiamo a bloccare la prima maglia che non contiamo voilà e adesso facciamo 1 2 3 e poi 1 2 3 e 4 andiamo nella vedete 1 2 quindi praticamente andiamo nella seconda o penultima ok nella penultima la lavoriamo così un punto puff quindi 1 2 e 3 e chiudiamo tutto insieme facciamo 2 catenelle rientriamo nello stesso punto 1 2 3 chiudiamo tutto insieme blocchiamo nell'ultima maglia alta che questa andiamo a fare nell'ultima catenella andiamo a fare una maglia alta ok adesso facciamo 3 catenelle al posto della prima maglia alta entriamo ora ne tra un punto puff e l'altro quindi entriamo tiriamo sul filo ad altezza delle 3 catenelle rientriamo e sono due rientriamo e sono tre facciamo passare il nostro filo 2 catenelle rientriamo di nuovo dentro 1 2 3 filo sull'uncinetto chiudiamo tutte le maglie insieme blocchiamo andiamo sulla vedete questa è la maglia alta sulla testa proprio della maglia alta e facciamo una maglia alta 3 catenelle giriamo il lavoro andiamo al centro dei due punti puff e quindi 1 2 3 filo sull'uncinetto chiudiamo tutto insieme 1 e 2 catenelle 1 e 2 catenelle 1 e 2 catenelle rientriamo dentro 1 2 3 chiudiamo tutto insieme blocchiamo sulla testa della maglia alta una maglia alta ve lo faccio vedere ancora una volta 1 2 e 3 entriamo in me prendiamo il filo sull'uncinetto entriamo tra i due punti puff e via con 1 2 3 chiudiamo tutto insieme 1 e 2 catenelle rientriamo 1 2 3 chiudiamo tutto insieme blocchiamo entriamo nella testa di questa catenella che era la nostra maglia alta e facciamo una maglia alta ok e andiamo avanti così per fare tutte le nostre ondine io prendo già quella che avevo già fatto che questa qua allora quando avete fatto una fila di onde lunga quanto è lunga la vostra manica e spalla ok perché saliamo anche sulla spalla quindi quando siete pronti questa era la nostra manica sarebbe stato meglio togliere tutti i fili ma va bene così dalla parte dritta attenzione dalla parte dritta mettiamo la nostra striscia qui mi serve un filo nuovo vediamo se ne ho uno libero ma che ok recuperato il mio filo ok partiamo di qua quindi io parto subito vedete che questa è la prima maglia parto proprio qui prendo il mio filo nuovo lo blocco rientro dentro per essere sicura di averlo bloccato bene maglia bassissima perfetto ora non scappa più ora faccio una catenella vedete che le nostre onde hanno appunto questa parte qui sono maglie alte io entro praticamente aspettate che quello prendo meglio entro qui faccio il tiro fuori il mio filo faccio una maglia bassa faccio una catenella ora torno a lavorare e vedete questi fili qui da un proprio fastidio bisogna proprio toglierli rientro di nuovo all'interno di questa maglia e faccio una maglia bassa ok adesso di nuovo una catenella vedete che questa qui c'è la catenella io entro a questo punto in questa è la maglia la catenella che formava la maglia alta entro proprio qui vedete all'altezza proprio della base di questa maglia alta e faccio la mia maglia bassa una catenella entro nella base di questa maglia alta e faccio una maglia bassa una catenella entro all'interno della maglia alta e faccio una maglia bassa una catenella e basso dall'altra parte vado alla base di questa maglia alta una catenella una catenella torno di là e vado alla base di questa maglia alta una catenella base di questa maglia alta di nuovo una catenella vado alla base di questa maglia alta una catenella appena vi ho fatto capire come fare vado subito a togliere tutti questi fili che sono veramente antipatici allora vado sempre alla base di questa maglia alta e continua così praticamente io faccio la maglia bassa e sulla manica poi faccio una catenella vado nelle nostre onde vado nella base di questa maglia alta e faccio una maglia bassa di nuovo una catenella vado nella manica e faccio una maglia bassa proprio nella base della maglia alta una catenella vado di qua una maglia bassa e continuo così fino alla nostra spalla ok quindi lavoro tutta la spalla in questo modo cioè qui praticamente qui poi taglio il filo potete ripartire da qui se volete o ritornate da questa parte e cucite anche queste onde da questa parte qui nello stesso identico modo ok quindi ci ritroviamo quando abbiamo cucito la nostra fila di ondine se volete sarebbe meglio che andata a togliere le codine perché altrimenti vi si mettono in mezzo e sono fastidiosissime ok buon lavoro e a dopo posso continuare con voi questa parte cioè praticamente io sono dalla parte opposta sto cucendo le maniche ok c'è la parte sopra proprio delle maniche volevo farla con voi questa parte per raccontarvi una cosa allora prima di tutto aspettate fatemi finire che arrivo dovete fare molta attenzione quando fate questo lavoro quando lo cucite con con questo sistema ok in che senso dovete fare attenzione che non tiri cioè non deve tirare deve andare vedete come come viene bello piatto ok non non si raggrinzisce e ora vi spiego in che modo fare innanzitutto controllando ogni volta che fate una decina di punti poi controllate e questo è sempre sistema giusto ok poi non avete un punto esatto dove posizionare l'uncinetto per la cucitura siete voi che dovete calcolare ok io ci sono ok ci sono vedete che io lascio la parte dove posso scucire alla fine della lavorazione in modo tale che posso regolarmi ok adesso finisco qui poi vi spiego meglio dicevo non c'è un punto preciso dove voi dovete andare a mettere l'uncinetto io vi ho fatto più o meno vedere dove dovete posizionarlo ma alla fine poi siete voi no che dovete decidere e vedere dove poterlo posizionare nel modo migliore per far sì che non faccia delle brutte pieghe ok sono ancora io con tutti i filetti filotti ecco questo è l'ultimo quindi aspettate mi manca la maglia qui poi vado nell'ultimo chiudo qui e sono salita troppo ok importante farvi vedere anche questi passaggi perché a tutti può capitare che magari ecco vedete io devo rimanere dentro questo quindi aspettate che si scucite a questo punto la treccina così si capisce meglio dove siamo vedete io questa parte in più e quindi la tiro via così perfetto vedete deve essere pari quindi questa l'ho tolta in modo tale da ecco ho tirato troppo ok aspettate che recupero adesso mi viene anche questo troppi troppi pezzi aperti e qua perfetto allora la treccina è qui quindi disfate quando arrivate quasi in cima con tutte e due le lavorazioni disfate la treccina in modo tale da capire dove siete perché sennò si fa come ho fatto io si fa confusione quindi dove a dobbiamo pareggiarci eccolo qua adesso sì che ci siamo purtroppo avevo un pezzo in più e stavo andando verso quel pezzo in più ma sbagliando ovviamente allora quindi siamo qui io mi posiziono qua una catenella vedete dovete un po cercare voi lago nel pagliaio dovete cercare voi la posizione dove inserirvi ho fatto la catenella sì questo è l'ultimo punto ok mi giro e vado a bloccarmi sempre con una catenella nella punta bene non è difficile e solo bisogna solo fare un pochino di attenzione chiudo ok fatto allora praticamente quello che io vi dicevo quando voi iniziate a chiudere vedete che non ha nessun tipo di difetto ed è questa la cosa importante e non è ancora stirato ok e non ha nessun tipo di difetto allora quando voi iniziate innanzitutto iniziate dalla fine della vostra delle vostre onde ok quindi iniziate dalla fine delle vostre onde da un lato proseguite e arrivate fino qui non iniziate da qui perché se no se dovete fare degli aggiustamenti non vi riesce quindi tagliate il filo riprendete di nuovo dalla dalla dal termine ok dal termine cioè dall'inizio che poi è il termine della vostra ondina e fate anche la parte sinistra o destra che sia fino ad arrivare in cima in modo tale che in cima sicuramente avrete delle onde in più e quindi disfate le onde e arrivate a pareggiare adesso così sembra tutto un coso risicato ma fidatevi che pareggiato completamente quindi ora vado a togliere tutte le codine e iniziamo a parlare dell'unione dei due lati grazie per la lorella sto usando guarda per la prima volta i tuoi aghi e ti ringrazio ancora di cuore sono veramente veramente utilissimi e adesso lo proviamo in diretta grazie a l'orella ci siamo incontrate qui a bologna con alcune delle nostre amiche di gruppo e sono state così carine mi ha portato addirittura dei regalini cioè un amore a guarda l'orella allora non sai quanto è comodo anzi lo sai perché se me l'hai regalato perché lo stai usando anche tu io ti confido una cosa è la prima volta che lo uso lo guardavo ma non lo prendevo e mi piace un sacco anche perché visto con in quanto in quanto tempo ho infilato il filo nella cruna grazie cara questa era proprio per te grazie infinite andiamo adesso a realizzare la fascia che unirà le due metà del nostro cardigan realizzate quindi 9 una diciamo una striscia con 9 catenelle ok quindi una fila di 9 catenelle poi a partire da aspettate che vediamo devo dirvelo per bene quindi 12345 perfetto nella quinta andiamo a fare nella quinta contando da qui è 1 2 3 4 nella quinta dopo aver fatto le 9 catenelle tornate indietro da qui nella quinta andate a fare e andiamo a fare il nostro punto path quindi 123 chiudiamo tutto insieme blocchiamo 2 catenelle rientriamo di nuovo dentro quindi 1 nello stesso nella stessa nella stessa maglia catenella ok 2 e 3 se smettessi di fare i video tutorial alle 11 di sera forse riuscirei a parlare un attimino meglio comunque sia nella stessa catenella abbiamo fatto il punto path ok poi andiamo a fare adesso nella catenella successiva ok poi andiamo a fare adesso nella catenella successiva successiva una maglia alta nella catenella successiva ancora un'altra maglia alta ora nella catenella successiva rifacciamo il punto path quindi 123 chiudiamo insieme blocchiamo 2 catenelle rientriamo 123 chiudiamo tutto insieme blocchiamo andiamo nell'ultima catenella e facciamo la nostra maglia alta 1 e 2 perfetto 3 catenelle 123 andiamo subito nello spazio che c'è tra i due punti path quindi le nostre ondine 1 2 e 3 chiudiamo tutto insieme blocchiamo 2 catenelle di nuovo 123 chiudiamo tutto insieme blocchiamo andiamo sulla maglia alta e facciamo una maglia alta sull'altra maglia alta una maglia alta entriamo nello spazio tra i due punti path e ripetiamo 123 blocchiamo 2 catenelle rientriamo 123 chiudiamo tutto blocchiamo andiamo sulla prima maglia alta che questa e faccio la mia maglia alta bene inizia a vedersi vi facciamo ancora una volta insieme quindi abbiamo fatto le 3 catenelle al posto del primo punto alto entriamo e via 1 2 e 3 chiudiamo tutto insieme blocchiamo 2 catenelle rientriamo 1 2 e 3 chiudiamo tutto insieme blocchiamo andiamo a fare la maglia alta vedete qui ci sono due maglie alte quindi 1 andiamo nella maglia alta successiva e facciamo anche l'altra maglia alta praticamente seguite semplicemente quello che fate è che avete già fatto sotto quindi di nuovo 123 chiudete tutti insieme senza farvi scappare nulla io lo rifaccio 123 blocchiamo 2 catenelle 123 blocchiamo inseriamo la testa dell'uncinetto nella prima delle 3 catenelle e facciamo la nostra maglia alta ok allora tengo a precisare una cosa io il io qui nella fascia dietro avete notato blocco e poi faccio 2 catenelle nella fascia invece quella piccola di di onde invece ho fatto solo blocco e una catenella quindi potete fare sia in un modo che nell'altro cambia solo che facendo con 2 catenelle rimane un po più largo ecco tutto qui altrimenti potete fare come avete fatto per l'onda singola e quindi fare solamente una catenella anziché 2 ok quindi bloccare fare una catenella oppure come in questo caso bloccare fare 2 catenelle dipende da come piace più a voi questo che noi voi dovete fare deve essere lungo come dalla parte sotto della nostra giacca fino all'altezza nuca ok quindi magari fate qualche qualche onda in più in modo tale che è più facile poi da scucire anziché dover fare le onde mancanti ok magari fate quei quattro centimetri in più così possiamo giocare bene con con l'incastro ecco preferisco faccio fare così almeno ve lo faccio vedere meglio praticamente ciò che voi adesso dovete andare a fare scusate che prendo anche l'altra metà così ve lo faccio vedere e fare innanzitutto quello che vi ho appena fatto vedere quindi è praticamente la fascia che ci servirà da unione ok poi metterete quella fascia proprio qui io adesso devo andare ancora un po avanti con la mia fascia ok quindi la mettete proprio all'inizio e lavorate nello stesso identico modo che vi ho mostrato per le maniche quindi partendo da sotto e andando in su dove noi praticamente lavoriamo questa fascia ok quindi da sotto e andate in su quando siete arrivati in su intendo qui in su cioè qui a praticamente dovete arrivare lasciatevi magari voi arrivate prima del della bordura perché devo ancora decidere come continuare ok quindi arrivate proprio alla fine diciamo di di questa metà ok all'inizio del della nostra board del nostro bordo con le ondine voi vi fermate qui ok quindi cucirete tutta la fascia questa che voi andrete a fare adesso da questa parte fino andare su ok dove vi ho mostrato poi lasciate il filo lassù prendete un filo nuovo ripartite da sotto e ritornate su in modo tale che abbiamo quindi tre fili aperti avremo il filo quello che sarà sulla nostra sinistra il filo sulla destra e più il filo della della nostra fascia non tagliatemi soprattutto quello della fascia ok se riuscite a tenerli tutte e tre magari fate dei gomitolini più piccoli così tenete li tenete tutti e tre sarebbe l'ideale tenerli tutti e tre aperti altrimenti tagliate e poi lo riprendete cioè non è non è un problema io cerco sempre di fare meno tagli possibili ma alla fine poi ne faccio tantissimi comunque e quindi ci ritroviamo quando abbiamo cucito mi raccomando fatelo con calma e per bene la fascia ha i due lati e vi mostro come andiamo avanti sul davanti ok a dopo dovreste essere tutte a questo punto cioè partendo dal basso abbiamo unito le due metà del nostro cardigan con questa fascia ok e siamo arrivati questo non c'entra assolutamente nulla ecco ho tolto l'intruso allora e siamo arrivati tutti qua praticamente a questo punto anzi sì proprio a questo punto ok come procediamo adesso io avevo il filo della nostra fascia questa parte qui cosa ho fatto io ho tenuto in sospeso il filo della lavorazione ok c'è della lavorazione per la cucitura ad uncinetto l'ho tenuto in sospeso e ho continuato come adesso vi mostro da questa parte ok quindi recupero il filo ok allora io lo prendo a filo nuovo perché ovviamente ho lavorato già questa parte ok fate attenzione a questo allora qui abbiamo le nostre due ondine e questa è la maglia alta quella verticale ok perché le ondine sono formate un modulo è formato da una maglia alta le due ondine e la maglia alta ok quindi noi cosa facciamo partiamo dalla maglia alta blocchiamo il nostro filo voi fatelo come meglio credete come normalmente fate bloccato il filo facciamo la nostra maglia alta in questo caso saranno 3 catenelle se riesco a tirarle su ok 1 2 e 3 ora cosa faccio voi avete la fascia così io lavoro solamente un'onda quindi un modulo dell'onda e voi dovete fare la stessa cosa entrate nell'onda 1 2 3 chiudiamo tutto insieme blocchiamo entriamo dentro 1 2 3 chiudiamo tutto insieme blocchiamo catenella e andiamo direttamente sulla maglia alta ok allora voglio cercare di spiegarvelo bene voi avete la fascia che avete appena unito nella parte retro ok e vi ritrovate con una fascia così ok vi ritrovate a questo punto ora dobbiamo dividere le due ondine una andrà verso sinistra e una andrà verso destra io quella sulla sinistra l'ho già fatta adesso stiamo lavorando quelli sulla destra ok quindi noi adesso stiamo dividendo la fascia in due per andare a lavorare sulla spalla e sul davanti quindi facciamo le 3 catenelle giriamo il lavoro e andiamo a fare a continuare le nostre ondine quindi 123 blocco catenella forse prima ne ho fatto una soltanto comunque quante ne avete fatte voi vanno bene o una o due continuate solo come avete fatto ok e poi andiamo sulla maglia alta che questa ok saliamo con tre catenella in poche parole sto lavorando come se fosse la fascia questa che abbiamo fatto per la manica adesso ok ho diviso vedete ho diviso il lavoro in due parti solo una mente diabolica e fuori di testa a volte dico a complicarmi le cose sono troppo brava sono troppo brava a complicarmi le cose però è francamente a me piace veramente tantissimo io non so cosa ne pensate voi ma io veramente veramente sono molto felice di averla realizzata quindi 123 torniamo qui 12 e 3 chiudiamo tutto allora questo che io sto facendo adesso voi dovete ripeterlo in continuazione fino ad arrivare quando mi serve un marca punto qua vicino non lo trovo mai pazienza allora fino ad arrivare ora vi dico alla fine della fianco frontale che fianco alla fine del diciamo della parte dell'apertura frontale del nostro cardigan ok quindi proprio qui alla punta quindi quando avete lavorato questa parte che si allunga ovviamente quanto tutta la parte frontale quando avete lavorato tutta questa fascia la unirete come avete unito la manica e come avete unito la fascia da questa poi fate la stessa cosa dall'altra parte e ci ritroviamo quando tutte e due le parti sono completate ok quindi andiamo avanti a fare una striscia di nuvola singola destra singola sinistra perché singola perché abbiamo diviso ve lo ripeto di nuovo proprio per essere proprio chiara abbiamo diviso la fascia del dietro in due parti ok quindi una verrà lavorata vedete questa l'ho già fatta verrà lavorata sulla sinistra e questa andrà lavorata su e poi cucita sulla destra guardate cosa viene ci vediamo quando abbiamo finito queste due parti benissimo dovremmo essere tutte arrivate a questo punto cioè abbiamo unito i nostri lati quindi la nostra fascia al nostro lato frontale quindi l'apertura del nostro cardigan sia da una parte che dall'altra quindi abbiamo fatto la chiusura del retro come vedete non vedrete nulla se non questa questa fila di trecce ondose e la parte frontale ok ora io sto provvedendo a fare un bordino sotto per il bordino sotto la prima cosa che ho fatto è un giro di maglie basse quindi praticamente se riesco a trovare il capo arrivo è eccolo qua allora semplicemente in ogni maglia bassa ho fatto una maglia bassa e qui potete farlo anche voi esattamente come ho fatto io ok quindi alla fine fa ho fatto una fila di maglie basse poi qui volevo fare subito delle ondine però prima di fare le ondine volevo dare un po di aspettatemi che arrivo ecco volevo dare un po di vuoti quindi io penso di procedere in questo modo poi se non mi piace tolgo via questa parte e non la vedete quindi vedete poi un'altra parte quindi io praticamente sono nella parte diciamo frontale ok nell'apertura frontale inizio con le mie 3 catenelle poi faccio un'altra catenella ne salto una e vado a fare la mia maglia alta di nuovo salto una e vado a fare la mia maglia alta e procedo così per tutto il giro di andata in questa maniera quindi faccio semplicemente una catenella e una maglia alta saltando una maglia bassa vedete una maglia bassa sottostante ok per non fare perché adesso ve lo faccio vedere in breve ok in questo piccolo tratto poi io proseguo e vedo se mi piace se mi piace e lo vedrete altrimenti tolgo via nel frattempo però vi faccio vedere cosa io andrò a fare adesso pensato di fare una cosa così allora innanzitutto voi finirete in questo modo ok quindi con una maglia alta una catenella e una maglia alta anche dall'altra parte siete nello stesso punto ok quindi voi facciamo finta che qui sono alla fine di questa della parte sotto che sono dalla parte opposta quindi alla fine della di tutta la parte che comprende il frontale destro la parte dietro e il frontale sinistro quindi qui sono alla fine di questo giro quindi io per tornare indietro faccio 1 2 e 3 che sono le prime maglie alte una catenella e vado sempre qui ok questo è l'inizio del giro del secondo giro e la fine scusate e l'inizio e la fine del secondo giro poi facciamo 1 2 3 4 e 5 saltiamo 22 rettangolini e andiamo sulla maglia alta ok quindi ne ho saltati due di nuovo 1 2 3 4 e 5 ne salto 2 e faccio la maglia alta quindi salto diciamo una maglia alta vado sull'altra maglia alta di nuovo 1 2 3 4 5 e vado nella maglia alta ecco qui praticamente sono adesso combinazione non mi torna il conto va bene così sia una diciamo una catenella e qui la finiamo in questa maniera ok una catenella e la finiamo così dai valla tanto non succede nulla ora giro il mio lavoro ok combinazione non mi torna perché ho fatto solo un pezzettino penso che lavorandolo tutto poi mi torna ma anche se non vi torna fate pur come ho fatto io l'importante poi che ritorniamo a far bene dopo quindi per iniziare questo nuovo giro facciamo una maglia alta una maglia alta all'interno del del nostro diciamo della nostra della nostra catenella che scusatemi e poi facciamo una catenella andiamo su questa maglia alta una maglia bassa e poi facciamo 1 2 3 catenelle e facciamo la nostra onda per riprendere comunque perché dobbiamo riprendere il nostro motivo andiamo appoggiarci in questo caso nella metà perché dobbiamo appoggiarci dove l'onda ci dice di andare ok 1 2 e 3 1 2 e vado qui anzi forse posso anche appoggiarmi prima si qui 1 2 3 1 non mi soffermo più sulle onde perché oramai siete più brave voi a farle di me e mi appoggio qui 1 2 3 voglio solo vedere come viene così perché volevo dare un po di vuoto prima di ripartire con le onde 3 1 2 che poi di onde all'ultimo possiamo farne anche due file ok ecco alla fine noi facciamo vedete la maglia bassa nell'ultima ma nella penultima maglia alta una catenella entriamo nella nello spazio facciamo una maglia alta e l'ultima maglia alta che deve sempre esserci di bordo finale ok e rimarrebbe così allora ovviamente con un petto pezzettino soltanto non è che tanto si riesce a capire però l'idea che voglio darvi e questa non so se se piacerà anche a voi è quella di avere un vuoto prima del bordo finale capito cosa cosa intendo fare questo un vuoto prima del bordo finale ora se piace anche voi bene altrimenti qui potete decisamente andare avanti con le onde senza fare questi vuoti fare semplicemente le onde finali e basta a parte che lo vedremo poi finito vediamo se potrà eventualmente piacere anche voi completandolo ok a me sembra molto grazioso vedremo vedremo intanto io vado avanti così se non vi piace questo tipo di bordo ripeto fate semplicemente delle ondine sulle maglie basse una maglia bassa una fila di maglie basse però fatela e qui per rifinirla poi decidete voi se fare le onde subito o se fare uno spazio per dare un po di di movimento ecco al nostro al nostro cardiga decidete voi io intanto procedo con lo spazio sotto ok dopo aver fatto quindi il bordino sia sulla parte sotto che sulla parte delle maniche adesso sto pensando di fare un collettino quindi io cosa ho fatto tenuto intanto fermo e in modo dritto il mio cardiga e poi ho messo dei fermapunto dove intendo far partire il mio collo quindi diciamo circa due dita sotto il nostro collo per quanto mi riguarda ok poi ho contato il numero di maglie basse perché qui c'è tutto un giro di maglie basse il numero di maglie basse da questo punto a metà e poi le stesse lo stesso numero lo l'ho contato da questa parte per mettere l'altro fermapunto io contato 28 maglie basse da questa parte 28 maglie basse da quest'altra per quanto riguarda me ma voi magari potete farlo un po più lungo un po più un po più indietro dipende da come volete fare voi il collo e adesso ci mettiamo all'opera col colletto per chi vuol farlo è ovviamente bene adesso andiamo a realizzare il nostro colletto partiamo da dove abbiamo fissato il nostro marca punto segna punto a volte lo chiamo in un modo a volte nell'altro e proprio da qui ci agganciamo a filo nuovo ok voi fate vi dico sempre agganciatevi come siete abituate a fare ok e proprio da qui facciamo la nostra maglia bassa e poi iniziamo con il giro di onde o come l'ho preso male maglia bassa e il nostro giro di onde quindi 123 entriamo nella nostra maglia bassa e facciamo le nostre ondine chiudiamo tutto insieme 123 e ripetiamo 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo tutte insieme 123 maglie basse e continuiamo oramai lo sapete sapete fare una fila di ondine fino ad arrivare al marco punto opposto ok fatta l'ultima onda bloccata con una maglia bassa tiriamo su 123 catenelle giriamo il lavoro ora fate 2 catenelle e puntate l'uncinetto come fate normalmente quindi nella maglia bassa delle ondine con una maglia alta quindi 2 catenelle maglia alta 2 catenelle maglia alla fine del giro ok quindi maglia alta tra le due ondine nella maglia bassa 2 catenelle e maglia alta fino alla fine del giro mi sono intrippolata con i miei figli allora sono all'ultima maglia alta che faccio sulla prima maglia bassa del giro precedente a questo punto giro anzi posso già fare subito una catenella giro il mio lavoro e si ricomincia dal primo quindi praticamente adesso abbiamo fatto una catenella entriamo sulla maglia alta facciamo una maglia bassa e di nuovo 3 catenelle entriamo nelle due costoline 123 e ci appoggiamo sulla maglia alta con una maglia bassa e di nuovo 123 e andiamo sulla maglia alta a fare una maglia bassa ok e procediamo così sono praticamente solo due giri quindi un giro di onde un giro di maglie alte con le catenelle quindi questi archetti ok poi di nuovo le onde sugli archetti come vi ho fatto vedere quando tornate indietro dove c'è la maglia bassa farete la maglia alta le due catenelle e la maglia alta e giù i giri sono solo due quindi alle ondine come vi ho appena fatto vedere e gli archetti continuate ondine archetti ondine archetti ondine e archetti finché non arrivate alla misura del collo che più vi piace io appena l'ho finito vi mostro quanti giri ho fatto voglio però far vedere una cosa allora guardatemi bene se noi si potrebbe fare anche semplicemente dritto ok quindi praticamente senza fare aumenti voi continuate e quindi diventa dritto cioè così ok il colletto diventa dritto se però vogliamo fare l'aumento in modo tale che faccia una specie di curva tra virgolette dobbiamo fare in questo modo io di fatti ho fatto due giri senza aumentare poi nel dove c'è praticamente l'archetto qui ho aumentato in questo modo ve lo faccio vedere così se volete lo fate anche voi quindi io parto qui con 3 cat con 3 catenelle come avrei fatto normalmente ok quindi faccio non ho preso male 1 2 e 3 poi faccio però ancora 2 catenelle per fare la separazione e rientro nella stessa maglia bassa e faccio una maglia alta e così io ho fatto il mio aumento ora faccio 2 catenelle vado nella maglia bassa e faccio la mia maglia alta 2 catenelle nella maglia bassa faccio la mia maglia alta 2 catenelle e continuo così ok quando arrivo alla fine nell'ultimo farò la stessa cosa quindi nell'ultima vedete qui c'è la maglia bassa in questa maglia bassa farò una maglia alta 2 catenelle e una maglia bassa nella stessa e una maglia ascolta ripeto una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta nella stessa maglia bassa ma ve lo faccio vedere adesso finisco questo giro vi mostro sono la penultima 2 catenelle vado nella maglia bassa se non riuscite prendetela in questo modo quindi mettete proprio l'uncino all'interno così entrate e fate una maglia alta vedete qui dovreste finire così invece io continuo con 2 catenelle rientro nuovamente e faccio l'altra mia maglia alta girando vi ritrovate così e quindi come al solito ripartite con una catenella entrate nella maglia nella testa proprio della prima maglia alta facciamo la maglia bassa poi 3 catenelle e si ricomincia da capo 1 2 e 3 ci appoggiamo sull'altra maglia alta e così via per tutto il giro quindi io penso che con questo giro finirò il mio colletto ok quindi io penso che farò 1 2 3 4 5 6 onde ok in totale 6 onde adesso finisco questo giro poi lo provo vedo se mi piace il colletto così e a quel punto mi fermo e vi faccio vedere cos'altro faccio ed eccola finita ora se mi avete seguito passo passo questo è il risultato che avrete tutte quante avrete questo risultato abbiamo la nostra bellissima manica con le nostre onde che seguono fin sopra la spalla il nostro collettino che francamente ho cambiato quattro volte perché non mi piaceva mai e questo è perfetto per questa creazione perlomeno per quanto mi riguarda lo trovo perfetto e cos'altro dire il sotto traforato e come lo volevo io perché proprio da un po di stacco dalla lavorazione così complessa ragazze sono pazzamente innamorata di lei veramente 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 ve lo mostro dietro così per farvi vedere anche a voi ecco quindi anche voi adesso avrete una non cucitura ma un abbellimento nella parte centrale della vostra schiena e sarà un bellissimo vedere c'è praticamente in centro le due onde e lateralmente le altre onde con la separazione cioè io sono troppo di parte mi rendo conto che sono di parte poi avrete notato che ovviamente le onde salgono sulla spalla e poi scendono sul davanti separandosi ok separandosi prima sono unite e poi si separano e vanno una da una parte una dall'altra complimenti perché siete riusciti ad arrivare dove sono arrivata anch'io ora potete anche voi indossare il cardigan incanto d'onda ricordate di citarmi sempre se pubblicate una mia creatura grazie infinite grazie grazie a tutti